Cinquantesima edizione del forum dell'European House Ambrosetti a Cernobbio, come festeggiate questo importante compleanno? Come festeggiamo? Intanto lo festeggiamo con l'edizione più ricca e carica di protagonisti della storia mai avuta. Abbiamo avuto 13 governi presenti, 3 capi di Stato, 11 ministri del governo italiano, la Presidente del Consiglio, economisti, premi nobili, insomma abbiamo un parterre de ruade di primissimo piano e soprattutto è quello anche che ci ha connotato potentemente nell'ultimo ventennio da quando io e altri partner abbiamo liquidato il fondatore appunto 20 anni fa, il crescente apporto di contenuti proprietari. Sono 22 ricerche scenariali strategiche che abbiamo presentato e presentiamo in queste tre giorni, che spaziano dagli scenari al futuro del nucleare, agli impatti dell'artificial intelligence per le piccole e medie imprese e per il sistema paese, fino all'osservatorio PNRR, all'osservatorio Women Empowerment e non li cito tutti i 22 per evidenti motivi di tempo. Sono molto orgoglioso che il Presidente Mattarella abbia aperto la cinquantesima edizione del nostro forum, tra l'altro dando un indirizzo strategico di contenuto molto importante su tre direttrici, una quella della consapevolezza che senza una fortissima coesione e maggiore integrazione europea i piccoli e fragili paesi europei, compresa l'Italia, compresa la Francia, compresi tutti i 27, non vanno da nessuna parte, solo uniti rimaniamo forti per fare massa critica nello scenario difficile, complesso, globale. Secondo l'indirizzo forte che ha voluto dare con un richiamo al senso di responsabilità, ricordando il fatto che la massa di 2 trilioni circa di debito che l'Italia ha significa un peso di poco meno di 100 miliardi di interessi all'anno che soffoca la possibilità del Paese di fare altri investimenti e di avere maggiore flessibilità fiscale. Questi quattrini, questo centinaio di miliardo di interessi è equivalente a quanto Germania e Francia insieme pagano, avendo però insieme il doppio del debito che abbiamo noi. Terzo messaggio forte del Presidente che noi sottoscriviamo in pieno, che era contenuto nel rapporto Russia-Ucraina, che abbiamo anche presentato in questi tre giorni e che presenterò al Presidente Zelensky quando arriverà qui a Villa d'Este, a Cernobbio, l'auspicio del Presidente di attivare un percorso, una roadmap di pace. Ho candidato il forum, il forum TEA di Cernobbio, come sede ideale, neutra, terza, indipendente, per portare avanti un dialogo a Russo e Ucraino sui percorsi e vettori di pace. È un'idea un po' velleitaria, un po' ingenua, ma nella quale crediamo molto e ci applicheremo per implementarla. Ringrazio il Presidente per averla sottolineata e auspicata a sua volta. Quindi tantissima carne al fuoco e anche a proposito dei festeggiamenti al cinquantennale ci sono altri tre aspetti che voglio ricordare. Uno è che ho l'onore di essere stati censiti come l'eccellenza del sapere italiano, dalla Repubblica Italiana, con il francobollo celebrativo di questi cinquant'anni di storia, mezzo secolo. Due è che avremo le frecce tricolore a suggellare questa fantastica iniziativa quest'anno. La terza e ultima iniziativa che facciamo per celebrare il mezzo secolo di vita è una mostra fotografica con ANSA che attraversa le foto degli eventi più drammatici, più sconvolgenti dei cinque decenni ultimi e come il Forum TEA ha interpretato, anticipato, vissuto questi grandi eventi. C'è una sorta di ricerca di soluzioni nella tecnologia per un periodo come questo di forte incertezza? La tecnologia ha sempre dato un impulso alla crescita, all'innovazione, alla discontinuità e come ogni altra soluzione tecnologica anche l'intelligenza artificiale va interpretata in questo senso. Adesso oggettivamente non ci sono ancora evidenze specifiche di impatto oggi per oggi, ci sono però le evidenze che senza applicare modelli, algoritmi, innovazioni, software, eccetera, che l'artificial intelligence ci può dare, non riusciremo ad essere innovativi e creativi. Non siamo preoccupati dall'impatto dell'artificial intelligence, siamo preoccupati dall'ignoranza e dall'inconsapevolezza di chi non vuole sperimentare, non vuole cambiare, non vuole applicare nuovi modelli e nuovi metodi a vecchie strutture organizzative, a vecchie soluzioni.